Bentornati su MyFootballGersey. Oggi rivediamo una maglia che avevamo già visto in versione fan, trovate qui in alto alla recensione, la terza maglia dell'Inter per la stagione 22-23, quella in corso, in edizione player. La maglia è totalmente gialla, con innesti neuroazzurri soltanto su colletto e maniche. Il ritorno del giallo, colore presente nella storia intervista fin dalla fondazione con l'oro, elemento distruttivo del logo disegnato nel 1908 e oggi presente anche nella nuova visualità identity del club. Proprio il nuovo giallo, colore vibrante e acceso, introdotto nel 2021, fa il suo debutto sulla divisa dell'Inter, nel segno anche di una continuità con le maglie utilizzate dalle squadre nella sua storia. Un colore che fa parte dell'identità del club, ma che rappresenta un forte segnale di stile, con un legame profondissimo con Milano e con la sua community. La maglia mi era piaciuta, mi era piaciuta nell'edizione fan e quindi ho deciso di riprenderla nella edizione player. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Molto bello il colore giallo, il contrasto dei polsini e del colletto e molto bello il tessuto della versione player. Il costo lo vedete qui sopra, non aggiungo altro perché con un prezzo così c'è poco da dire. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora, prima di lasciarvi la parte finale nella quale vedrete le misure, mi raccomando lasciate un like e iscriveteci al canale. Aiutateci a crescere ed avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.